In occasione della presentazione della 14esima edizione dei luoghi del tempo l'assessore regionale Leonardo Marras è tornato a parlare della unificazione degli ambiti turistici che dividono la Maremma in nord e sud. Un'operazione assolutamente da fare perché la Maremma è una sola. Un evento che ha unito nella pratica due ambiti turistici separati solo da una scelta amministrativa e la riflessione che naturalmente va fatta tutti insieme, partendo dal basso, capaci di coinvolgere gli operatori credo sia venuto il momento di farla perché è proprio impronunciabile Maremma, Toscana, area nord o area sud e credo che ne vada nell'interesse della comunicazione territoriale, della capacità degli operatori di ritrovarsi e di estendere le esperienze come i luoghi del tempo hanno dimostrato di potere e saper fare. Che cosa ne pensa il comune di Grosseto? Noi siamo favorevoli, eravamo favorevoli che rimanessero uniti gli ambiti già nel 2018 quando la regione invece divise la Maremma con due ambiti, quello della Maremma nord e quello della Maremma sud oggi la stessa regione dice che la Maremma deve essere unita. Ecco, secondo noi questa è una proposta che va subito accolta, bisogna subito impegnarsi per riunificare nuovamente gli ambiti turistici nell'interesse del nostro territorio e di tutti gli operatori turistici che non possono lavorare in maniera divisa ma che devono lavorare nella loro interezza.